ciao a tutti prima uscita nel bosco del 2012 nel mio posto preferito sono le 7 e 5 siamo appena entrati nel bosco e c'è la prima sorpresa un bel porcino un po' mangiato ma bello è splendido buocca che bello 1 guardate qua un altro e la sopra ce n'è un altro ancora adesso andiamo andiamo questo questa guardate questo ha tu uscito por la paquita si si qua in questo punto il bosco tira parecchio però da anche delle soddisfazioni e questo l'ho mangiato però bello guardate questo piccolo lo lasciamo lì bello però guarda questo che bello ci aveva un bimbetto e questo si vedeva anche da lontano un po' passato anche questo bello nascosto raccogliamo è cresciuto proprio male questo è minuscolo questo è carino bello anche che bello il suo fratello qua ce ne sono due stupendi uno e due 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 qua uno qua ma che patata e questo probabilmente è il migliore finora della giornata manico lunghissimo Qua le in piede, allora qua un po' passati ma uno, questo è abbastanza enorme e quello in fondo, è un 4 guarda, guardate, mancava il quinto, è qua, uno, 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 due bellissimi esemplari di Rufum, uno e due, lontananza, guarda, 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 uno, andiamo a vedere l'altro, eccolo qua, faccio vedere questo, che forse batte come bellezza quello di prima, fantastico, e ragazzi, questo forse è un porcino da record da record no ma, un chilo